Quali sono le occasioni che abbiamo avuto sul piatto? I legni, che se non mi sbaglio sono tre, ci hanno impedito di andare di nuovo in vantaggio, sono così, magari prima o poi girerà anche un pochettino la sorte, però diciamo che al di là del primo tempo che abbiamo fatto qualche errore di troppo nell'atteggiamento, soprattutto la squadra ha risposto bene. Parlavi di atteggiamento, allora non era banale, dopo essere nati sotto, dopo due sconfitte consecutive, reagire in questo modo? Il carattere la squadra ha dimostrato anche oggi? Sì, il carattere l'ha dimostrato e ha reagito come doveva reagire, d'altronde è inutile girarci intorno, queste sono le partite del nostro campionato, era una squadra che aveva più o meno i nostri valori e sia noi che loro dovevamo provare a vincere. Ce l'abbiamo messa tutta e è venuto fuori un pareggio anche discreto sotto il profilo delle giocate, però penso che qualcosa possiamo ricriminare. Grazie 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 Grazie